È sempre uno di noi, la Sampdoria l'ha presa che era in serie B, l'ha riportata in serie A. Per la Sampdoria ha fatto tanto ed è stata una delle ultime bandiere che abbiamo avuto. Abbiamo l'onore di presentare sul palco Angelo, Angelo, Angelo Palombo. Angelo Palombo, Angelo, 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 Angelo. Ragazzi, viene tutti gli anni, a ogni anno è sempre un onore avverselo sul palco. Un grande applauso ad Angelo Palombo. Un onore per me essere qui, sempre e comunque. Quest'anno è stata una brutta, brutta e lenta agonia purtroppo, per tutti noi. Ma sono convinto che con il lavoro ci rialzeremo. Poi alla fine voi le domande rimani sempre. Le cose possono cambiare. E' importante che il nostro pubblico ci dia sempre il rispetto. Grazie. Allora, in Rantinata Sud, cantiamo la squarciagora. Ragazzi, ricordatevi che chi versa le lacrime è perché ci crede, è perché ci chiede. Ed è perché è uno di noi, è Angelo Palombo, è uno di noi, perché lui versa le nostre stesse lacrime nella difficoltà ed è contento nella gioia. Angelo Palombo, uno di noi. E allora, Palombo uno di noi, uno di noi, uno di noi, Palombo uno di noi, uno di noi, Palombo uno di noi. Grazie.